Musica Un luogo unico per gestire e risolvere le controversie. È nata a Firenze la prima Camera arbitrale congiunta che riunisce un ente pubblico e gli ordini professionali. La nostra convenzione ha una durata di tre anni e nella convenzione vengono stabiliti attraverso il regolamento i principi e le metodologie per avere una mediazione condivisa che sia sempre più pregnante e più vicina ai bisogni dei cittadini e delle imprese. L'ultimo ma non ultimo l'impegno è che per il 2014 vorremmo poter attivare anche una Camera arbitrale di diritto internazionale perché sempre più le nostre imprese hanno rapporti con l'estero. Il fatto di poter creare uno strumento che vada in questa direzione indubbiamente è un risultato di eccellenza anche questo. L'arbitrato è uno strumento che serve a risolvere controversie civili e commerciali in alternativa all'ordinaria via giudiziaria. Grazie agli arbitri scelti tra tecnici ed esperti della materia è possibile risolvere qualsiasi controversia di natura commerciale tra imprese all'interno di società o fra consumatori e imprese se nel contratto è prevista la clausola compromissoria. La nuova realtà è il frutto di una convenzione tra ordine degli avvocati, dei notai e dei commercialisti che collaboreranno alla promozione dell'arbitrato nazionale e internazionale a Firenze con particolare riferimento all'inserimento nei contratti delle clausole compromissorie. Il primo organismo in Italia che avrebbe unite queste sinergie che hanno l'intenzione appunto di presentare alla collettività uno strumento alternativo che offra un modo di risolvere problemi giudiziari con una rapidità e con una tecnica affidata appunto alla preparazione dei singoli organi professionali. È un'operazione che intendiamo fare per mettere a disposizione del mondo delle imprese e dei cittadini una struttura stabile che gestisca le procedure arbitrali con competenza perché è prevista che i tre ordini si facciano carico della formazione e dell'aggiornamento continuo di chi farà l'arbitro e poi di una suddivisione degli arbitri in settori specialistici perché non si può essere onniscenti e quindi vogliamo che ci siano delle competenze specifiche che noi ordini ci faremo carico di verificare e di tenere costantemente monitorati. La Camera arbitrale avrà sede presso la Camera di Commercio. Qui gli ordini professionali del territorio si riuniscono per la risoluzione delle controversie per società e cittadini. Certezza dei tempi e dei costi sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal nuovo strumento che offrirà agli utenti anche rapidità, regole semplici e riservatezza. Ovviamente poi la casa della Camera di Commercio a noi fa molto piacere perché essenzialmente poi gli imprenditori sono i nostri clienti quindi riusciremo tutti insieme sicuramente a dare un servizio che dovrebbe dare molto sollevo al cittadino da un punto di vista soprattutto dei tempi della giustizia e anche dei costi che saranno essenzialmente più bassi rispetto a quelli della giustizia ordinaria. Grazie.